alimentari riciclati come fertilizzanti, un progetto che ha fatto vincere al suo ideatore un concorso di Trentino Sviluppo e che ha fatto nascere una start-up. Ora la nuova edizione del concorso entro il 12 di settembre che permetterà ad altri giovani con idee innovative di avviare nuove attività. Stella Antonucci. Daniele Basso ha 34 anni, è un ingegnere ambientale e un ricercatore. Dieci mesi fa ha vinto il premio impresa e innovazione di 2T di Trentino Sviluppo che da quel momento gli ha fornito aiuto logistico e professionale per dare corpo alla sua idea di start-up. Una start-up che opera nel settore delle tecnologie verdi e si chiama HBI. Tutto parte dalla valorizzazione degli scarti di origine vegetale che vengono trasformati in materiale utile ai terreni. Noi andiamo a prendere gli scarti dell'industria alimentare prima che vengano trattati come rifiuti, li trasformiamo in questo materiale e poi questo materiale può essere utilizzato, mescolato con il terreno per aumentare appunto la produttività e la fertilità del terreno. A quali industrie alimentari vi rivolgete? Ma noi possiamo trattare gli scarti delle distillerie per esempio, delle industrie che producono succhi di frutta, pastifici, industrie che producono gnocchi, diciamo qualsiasi scarto che abbia origine vegetale. Dunque un'idea vincente perché utilizzare gli scarti delle industrie alimentari significa evitare il loro smaltimento come rifiuti e migliorare produttività e fertilità dei terreni con conseguente riduzione dell'uso di fertilizzanti chimici. Trentino Sviluppo ha indetto anche quest'anno il concorso D2T che premia i giovani con idee innovative. Per partecipare c'è tempo fino al 12 settembre.